Io lo consiglierei a tutti perché lo considero il lavoro più bello del mondo. Oggi non è più remunerato come una volta? Credo che il giornalismo abbia avuto tante fasi in cui non è stato remunerato bene per niente, però voglio dire, i lavori sono tutti complessi, se uno sente di avere questa passione specifica lo deve fare, poi come tutte le cose della vita può essere più complessa di altre, ma seguire le proprie passioni ha ancora un senso, credo.